L'autunno è iniziato ma a Dischia si va ancora in spiaggia, chissà per quanto ancora. Parliamo con Peppe Lafranca al quale chiediamo come è andata questa stagione balneare 2017. La stagione è quasi al termine, alcuni chiuderanno inizi di ottobre, alcuni il 10, altri il 4 e qualcuno resisterà fino al 20 ottobre. La stagione è andata su peggiù un po' meglio rispetto all'anno scorso, però dopo la scossa di terremoto di Casamicciola c'è stato un fuggi-fuggi della clientela e una diminuzione della clientela notevole, sicuramente i primi giorni, quindi la fine mese di agosto è stata tragica. Per noi per i stabilimenti balneari è stata particolare, anche perché la maggior parte dei clienti avevano prenotato fino alla fine del mese se sono andati. Non è capitato a noi il fatto che non hanno pagato, però qualcuno, logicamente, anticipato, mica tu ti puoi far pagare a chi ha anticipato. E quei 7-8 giorni è andata male. Inizi di settembre è un po' il tempo un po' strano, in altre situazioni, logicamente c'è stato un calo rispetto all'anno prima che invece era andata bene dopo ferragosto, notevole, quasi il 10%. La stagione ha avuto all'inizio molto bene, specialmente giugno, luglio e inizi di agosto è andata bene anche perché si è stato bel tempo. Ognuno ha fatto il suo criterio come stabilimento balneare, io ho ritenuto tenere tre file belle larghe, poco guadagno però che clientela scelta, tranquilla, è un luglio-agosto tranquillo. Logicamente possiamo dire che sull'isola Dischia purtroppo il mese di agosto è stato caotico anche negli stabilimenti balneari perché purtroppo, come al solito, sono arrivate famiglie un po' particolari. Quindi devo ringraziare pubblicamente le forze dell'ordine, i carabinieri, i polizia, i guardia di finanza e i guardia costiera per grande intervento, per grande lavoro fatto sull'isola Dischia perché effettivamente senza di loro non si poteva stare tranquilli. Quindi loro si deve ringraziare per tutto quello che hanno fatto. I vigili purtroppo hanno lavorato un pochettino saltuariamente anche perché le problematiche per il personale del comune Dischia e in altri comuni e quindi hanno lavorato per quello che potevano fare. Logicamente per la prossima stagione noi come associazioni balneari chiediamo un profilo impegno da parte del comune che ci ha promesso che faranno.